grazie una cosa utile in tre saghe ho detto saghe pazienza non c'era Alix davanti peccato magari ce l'ho fatta secondo me arriva di qua quindi facciamo un po' il giro largo così puttana sbagliavo forte sbagliavo fortissimo mi nascondo come un verme ah ma guarda cazzo merda merda porco giuda devo andar di qui allora devo andar di qui devo andar di qua corri non avevo più energia non so più farla è morto morto mi sta incapretando malissimo porca mignota scusami è però così per far condire così porca puttana mia però mi sembra strano allora vediamo quanto è profondo saranno cento foot grazie a tutti